Buongiorno, un caro saluto da Francesco Samani e come richiesto da alcuni docenti o aspiranti docenti che seguono il canale risponderò in questa lezione a quattro domande relative, quindi in linea di massima alla preparazione del concorso docenti 2020-2021 e anche alla preparazione del concorso TFA quinto ciclo. Allora, veniamo a noi. La prima domanda che mi è stata posta è quali strumenti è possibile utilizzare per la valutazione dei prerequisiti durante la scuola dell'infanzia e i primi anni di scuola primaria? Ovviamente i prerequisiti dei bambini, quindi posso riassumerla così. Quindi strumenti dei prerequisiti, prerequisiti, mettiamo così tra parentesi infanzia primaria. Questa è la domanda specifica che mi è stata posta. Allora, adesso io vi do delle risposte per elencazione, vi elenco gli strumenti che è possibile utilizzare. Poi ovviamente io vi porgo un'infarinatura generale senza entrare nel dettaglio, voi avete la possibilità di andare a visionare, a fare ricerche più specifiche in merito a quanto detto. Allora, sicuramente come strumenti dei prerequisiti abbiamo il progetto IPDA. Quindi progetto IPDA che consiste essenzialmente nell'identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento. Quindi, identificazione precoce, difficoltà di apprendimento. Sicuramente un altro strumento è l'SR45 della School Readiness. Quindi, SR45 School Readiness ed è relativo alle prove per individuare le abilità di base nel passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria. Quindi, individuazione, abilità, basilari fondamentali per passare da infanzia a primaria. Andiamo avanti, io ne ho individuati almeno sei, poi ripeto, la lista è lunga, non voglio soffermarmi troppo tempo per ogni domanda che mi viene posta in essere. Un altro strumento è l'RSRDSA che si basa su questionari di osservazione sistematica per la rilevazione di difficoltà e disturbi dell'apprendimento. Quindi, questionario Relativo Relativo Ai disturbi Dell'apprendimento Badate bene Che Verbalmente magari dico qualcosa in più Quando scrivo faccio la sintesi della sintesi della sintesi della sintesi per non andare a imbrattare la lavagna di troppe definizioni. Aggiungo come strumento il PRCR barra 2 Del 2009 Che consiste in prove di prerequisito per la diagnosi delle difficoltà di letto scrittura Quindi possiamo dire prove di letto scrittura Lo sto sintetizzando al massimo Il test CMF Voi badate bene Io le informazioni ve le sto dando così Perché secondo me già così sono più che sufficienti per prepararvi al concorso Cioè se vi verranno poste delle domande così specifiche Ovviamente voi non è che dovrete fare una trattazione da psicologi Come se fosse dei pedagogisti Che hanno studiato per vent'anni queste cose Ovviamente sono domande Secondo me anche abbastanza specifiche Alle quali bisogna Se verrà fatta richiesta Bisognerà dare una risposta in linea di massima generica Cioè dovrete far capire che in linea di massima sapete anche questo Bisogna anche per l'appunto fare una precisazione Cioè nei testi della di Simone ad esempio dell'Edices Sia credo nel grosso manuale dell'avvertenza generale Che sicuramente è fatto molto bene Sia per i manuali di preparazione alla classe di concorso specifica Queste cose non le troverete Perché ovviamente anche loro devono dare un manuale di preparazione e contenuto Cioè già le avvertenze generali nell'ultimo volume Arrivano anche quasi a mille pagine Ovviamente se andassero a aggiungere anche queste cose Supererebbero facilmente le 1300 pagine Anche perché loro si devono confrontare con voi In una modalità di stesura del libro Non è che vi fanno dei video, delle presentazioni Quindi nemmeno possono presentarvi Tutta la risposta a questa domanda O comunque l'approfondimento relativo a queste questioni In una pagina come sto facendo io Io ve le sto scrivendo in maniera molto sintetica Perché comunque ve le sto anche spiegando Quindi il test CMF Che è specifico per la prova della valutazione della consapevolezza metafonologica Quindi prova metafonologica Andate a vedere cos'è la fonologia Andatevi a rivedere qualcosa insomma relativamente alle questioni principali Che riguardano l'intelligenza, l'apprendimento eccetera 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 Come ultima, come ultimo strumento Sicuramente il test BIN 4-6 Rimetto lo zoom perché così mi leggerete meglio Che è un test essenzialmente che serve per la valutazione dei prerequisiti della intelligenza numerica Numerica E con questo mi fermo Bene Poi Seconda domanda che mi è stata fatta Ah Questa è una domanda interessante Ve la sintetizzo così Differenza Tra Potenziamento e trattamento Addirittura Sapete che esistono insegnanti che Sono proprio specifici del potenziamento Allora Essenzialmente In estrema sintesi Scusate la ridondanza Io vi ripeto Cioè Più di qualche volta vi dirò che sono molto sintetico Perché vorrei dirvi Mi piacerebbe dire tanto Però al tempo stesso Ecco se Voi mi lascerete dei commenti Nei quali mi direte Puoi essere più approfondito Relativamente a questo determinato argomento Io sinceramente Sarò lieto Di venirvi incontro Però Al tempo stesso Non voglio Impiegare Tutta la durata del video Per rispondere ad una sola domanda In maniera Approfondina Magari Ho fatto Ho fatto questa scelta Poi Mi direte anche voi Cosa ne pensate Nei commenti Vi ricordo Iscrivetevi E aggiornate il campanellino Perché La campanella Insomma Per sapere Quando usciranno i nuovi video E Quindi dicevo Voglio rispondere Almeno a 3-4 domande Che mi sono segnato in agenda Perché Insomma Così Riesco A venire incontro A più Cioè Mi sono arrivate Centinaia di Richieste Almeno comincio A Risponderne A qualcuna Poi Alcune domande A dire la verità Sono molto simili Tra l'altro Altre domande Che mi sono arrivate Fai dei corsi Online A pagamento Dei corsi Delle lezioni private Allora Ho detto a tutti di no Mi sono arrivate tante richieste Ho deciso di mettere Gratuitamente Questo materiale Per tutti Il corso esiste Ed è questo Quindi In questo canale Troverete Tantissimo Diffondetelo Nel gruppo studio Con i vostri amici E Valutatelo Mettete commenti Iscrivete Insomma Date il vostro contributo Allora Questa bella domanda Trova questa risposta Che Essenzialmente La differenza Tra potenziamento E trattamento Riguarda anche L'ambito In cui Le specifiche Misure di intervento Vengono poste in essere Tra operatori diversi In particolare Il potenziamento È un qualcosa Che è inerente Soprattutto All'ambito scolastico Quindi All'insegnante E all'insegnamento Mentre Il più delle volte Quando si parla Di trattamento Perché ovviamente Gli studenti BESS Spero sappiate Il significato Di questa parola Gli strumenti BESS Poi sicuramente Hanno anche Vengono anche seguiti Da operatori sanitari E quindi In questo caso Si parla di trattamento Operatori Sanitari Ah Sono in diretta live Quindi Scuseretemi Scuserete Se Non ci sono Ritagli del video Se Magari c'è Qualche Errorino Che Non viene ritagliato Io I video Ho deciso Di farli tutti in diretta Quindi Io sto Leggendo Le vostre domande E sto dando Le risposte Terza domanda Che tipo di attività È possibile Ah Queste Un'ultima cosa Ovviamente Voi troverete Una certa familiarità In queste domande Perché ho deciso Di fare dei video Più o meno Con contenuto Abbastanza Simile Cioè Non ho voluto Inserire In questo video Ad esempio La preparazione Come prepararsi Alla prova preselettiva E quindi Che ne so Test di logica Probabilità O Che secondo me State anche Troppo Sopravvalutando Perché Mi rendo conto Che tantissimi di voi Stanno pensando Tantissimo Alla probabilità Ai test Ai test Di logica Soprattutto Probabilistici E numerici E per esempio Io vi direi Concentrativi anche Sulla comprensione Del testo Sull'inglese Sulla 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 pedagogia Insomma Non è che Tutto il concorso Verte Sul Sul calcolo Combinatorio Per quanto Poi a me Esso piaccia Per carità Allora La terza domanda Che tipo Ha Anche questa è una domanda Abbastanza specifica Il tipo di attività È possibile proporre A un bambino Con difficoltà Metafonologiche Quindi Attività Per Bambino Con Difficoltà Metafonologiche Fonologiche Benissimo Allora Io Direi che È importante La Discriminazione Quindi Saper distinguere Discriminazione Discriminazione Uditiva E Del ritmo Quindi Gli esercizi Proposti Nell'area Uditiva E del ritmo Stimolano La gestione Di Porzioni Gradualmente Più piccole Delle parole Fino ad arrivare Ai singoli Fonemi Quindi Esercizi Su Parole E Fonemi Un altro Esercizio O attività Che si può Proporre Al bambino È quello Di Lavorare Sulla Dei suoni Quindi si possono Proporre Degli esercizi Basati Sulle coppie Minime In cui Il bambino Deba operare Una discriminazione Dei suoni Ad esempio Vengono Proposte Due immagini Viene Detta Una parola E il bambino Deve dire A quale Delle due immagini Corrisponde Quella parola Per esempio Io pongo Davanti al bambino Un gatto Un banco Di scuola E dico Qual è il gatto Ecco Questo significa La discriminazione Dei suoni E quindi Gli esercizi Basati Sulle coppie Minime Ok Coppie Minime Quindi Questo significa Fare Una scelta Cioè Lavorare Soprattutto In ambito Visivo E uditivo Cioè Vedere E lavorare Su quella parte Della mente Del bambino In cui Si stimola La capacità Di accoppiare Ad un suono Una Scheda Un'immagine E ovviamente Il discernimento Può essere fatto Non solo Tra coppie Anche Possono essere Io per esempio Posso proporre Al bambino Dimmi Qual è Tra queste figure Dove Vedete il gatto E magari Le figure Possono essere Più di due Come quarta domanda Che tipo Che tipo di attività È possibile Proporre A un bambino Con difficoltà Relative Alla semantica Del numero Ok La semantica Del numero Quindi Quarta domanda Prove Relative Alla semantica Del numero Allora Per semantica Ovviamente Credo che Intendiate La scienza Del significato Del numero Quindi La comprensione Del valore Del numero Quindi Quel processo Semantico Che regola La cognizione Della quantità Quindi Comprendere Scrivo in nero La risposta Comprendere Il valore Della quantità Perché Ad un numero In realtà È associata Sempre Una Quantità Quindi Ci sono Esercizi Che permettono Giudizi Sulla Numerosità Quindi Lavorare Sul Ripeto Sulla quantità Sul numero Sul valore Esiste Per esempio Il programma Di intelligenza Di intelligenza Numerica E Bisogna Considerare Che Il nostro Sistema Di numerazione È numerico Posizionale Cioè Il 7 Se sta qui Se io scrivo 07 È molto diverso Che scrivere 70 Quindi Per questo Si dice Che il nostro Sistema numerico È posizionale Quindi A mio avviso Relativamente al significato Del numero E quindi Dell'associazione Tra quantità e numero Bisogna Lavorare anche Sulle competenze Lo scrivo qua Competenze Visuo Spaziali Cioè Saper discernere Al meglio La posizione Dei vari numeri Perché A seconda Di dove Essi Si trovano Ovviamente Qui ci sono Le unità Qui le decine Poi centinaia Non c'è bisogno Insomma Che vi Dica A voi Queste cose Sicuramente Le saprete Meglio di me Sto dando Insomma Una risposta Alla domanda Poi Se alcuni di voi Sono talmente preparati Che vogliono Cioè Sicuramente Ci saranno persone Più preparate di me Che seguono il mio canale Perché Sto trattando Molti argomenti Ovviamente Se ci sono persone Così gentili Che vogliono Integrare Nei commenti Quello che dico Secondo me Queste persone Fanno Il bene Di tutti Io Questo Vi ringrazio Vi auguro Una buona giornata Come vedete Sto mantenendo L'onere Di rispondere A tutte le vostre domande E se vi è piaciuto Il video Mettete mi piace Vedetelo Condividetelo E se avrà Tante persone Che lo Visualizzeranno Io Continuerò Insomma A proporvi Video di questo tipo Buona giornata Vių Vių